Ok ragazzi, andremo a vedere ora sulle classifiche mondiali, se è un mazzo che voglio prendere, registro, no registro, classifiche, che io ora a questi tempi sto vincendo tutto, ovviamente non sono classifiche, visualizzo. Ok, dai, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, Filippo, non sono io ovviamente, ma c'è uno, c'è il diciottesimo che si chiama Filippo, voglio il suo mazzo, dai. No, questo account è stato eliminato, quello lo faccio io, cavolo, uno che si chiama Filippo, che era diciottesimo al mondo, l'account è eliminato, no vi giuro, anche questo. Dai, no, non ci voglio credere, ma no, io chiudo il video qua, no, non è vero, faccio una partitazza, però, Dio santo, dai, che palle, perché, perché? Ci ha distrutto la torre alla lettera, però ora gliela distruggiamo noi, guardate, guardate. Beh, noi abbiamo fatto una bella torre. Lucifari da anima, leggeri. ha quittato? no non ha quittato incredibile un uomo che non quitta penso che avesse quittato ne posso giurare la torre ce la possiamo anche salutare mi sa posso dire però lui ha salutato la centrale se per questo e lui ha salutato la centrale io sti tempi l'ho detto sto vincendo tutto ma guarda divento in top mondiale Val perché cioè non mi batte nessuno nessuno tutti quelli che incontro non mi batto ragazzi spero che questo video non dico che vi sia piaciuto perché ragazzi è estremamente tristissimo cioè dio santo raga Filippo è l'unico vabbè ragazzi questo video era un po' per far vedere che sono fortissimo sono più forte di Surreal Goblin non è vero vabbè ragazzi ciao grazie a tutti